Perché tu non sai se domani avrai ancora del tempo, tu non sai se domani avrai un'opportunità, tu non sai se domani avrai ancora del tempo. Alleluia, gloria a Cristo, mentre lo si può trovare cercate la luce del Vangelo, non rimanete nelle tenebre, non rimanete nel buio, non rimanete nel buio. Dove c'è Satana che distrugge e Dio lo sgridi, non rimanete nel buio, cosa vuol dire il buio? Il buio vuol dire lontano da Dio, non rimanete lontano da Dio, lontano da Dio c'è la perdizione, lontano da Dio c'è la morte. Non vivere nei falsi piacere, gloria a Cristo, non vivere nei falsi desideri, alleluia. Non vivere nei falsi divertimenti, il denaro non può salvare, lontano da Dio c'è la morte. Perdona Padre, aiuta questi ragazzi, tocca il suo cuore Padre, benedisce questi ragazzi, Signore, temi misericordia la sua anima Padre, salva il Padre, salva il Padre questi uomini. Non vivere nel buio, caro uomo, cara donna. Non perdere la tua anima, non pensare solo alle cose materiali, al denaro, ai piaceri di questo mondo, ai divertimenti di questa vita e poi la tua anima. A potere non sangue di Gesù. A potere la fine, il denaro non ti può salvare, i piaceri di questo mondo non possono rendire. Mettere il vuoto del tuo cuore, soltanto Gesù Cristo può dare la speranza, soltanto Gesù Cristo. Lo Spirito Santo può riempire il nostro cuore, il tuo cuore, non essere perduto nei desideri carnali, nella ribellione, nella disubbidienza. Alleluia, avvicinati a Gesù, avvicinati alla parola del Signore, dice la Bibbia, non di solo pane vive l'uomo. Alleluia, gloria a Cristo, alleluia, gloria a Cristo, ma per mezzo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, è la parola di Dio che non ha la vera vita. Alleluia, gloria a Cristo, non ti ingannare, seguendo il diavolo che ti fa vivere nei falsi piaceri e alla fine rovina la tua vita. Quanti giovani si stanno rovinando nella delinquenza, nei vizi, nelle droghe, quante persone sono rovinate perché non credono nel Signore. Quanti matrimoni sono rovinati per colpa dell'adulterio, la malvagità, l'odio, ma Gesù Cristo vuole illuminare la tua vita, la tua anima ha un grande valore per Dio, la tua anima ha un grande valore agli occhi del Signore. Alleluia, non lasciare che la tua anima si perda, gloria a Cristo, per colpa dei cattivi desideri, per colpa della ribellione, gloria a Cristo, per colpa dell'incredulità, non lasciare che la tua anima si perda, avvicinati a Cristo, mentre c'è ancora tempo, mentre, alleluia, la sua misericordia, la sua grazia, la sua salvezza è ancora disponibile, ma verrà un giorno che non ci sarà più tempo, verrà una grande tribolazione sulla terra, verrà una grande rovina sulla terra e chi non avrà creduto nel Figlio di Dio sarà trascinato dalle tenebre, dalla perdizione. avvicinatemi al Signore, riconosci che hai bisogno di Gesù, Gesù vuole liberarti dal tuo peccato, se tu riconosci che hai bisogno, lui ti perdonrà, mettiti così perché si vedi solo te, lui ti guarirà, gloria a Cristo, lui ti rialzerà, alleluia, lui purificherà il tuo cuore, alleluia, gloria a Cristo, alleluia, gloria a Dio, il cuore di pietra e ti darà la pace, ti darà una nuova vita, non sarai più quella fecola smarrita, ma sarai un figlio di Dio, e Lui ti guiderà, alleluia, nella retta via che porta nel regno dei cieli, Lui ti guiderà nella strada della vita eterna, nella via della pace, nella via della luce, nella via della salvezza. Perché Gesù Cristo disse, io sono la via, la verità e la vita. Alleluia!